di bologna dove dove c'erano altri pesci ho deciso di prendere questi due bei pesci rossi qua pallocchio e angel io ho messo in questa maniera qua perché si acclimitano per circa 10 minuti e adesso andiamo a fare l'apertura ovviamente diventeranno tre quattro volte più grossi e cinque sei volte se dobbiamo vedere non so bene anch'io finché poi ho altri progetti per questi ragazzazzi le liberati la nuova casina come se la girano sono piccolini ma diventeranno veramente molto molto più grossi vediamo sono un po di paura prendono confidenza poi vedremo che si riprendono subito è anche carino devo dire la verità è anche abbastanza divertente avevo voglia di altri di altri pesci ma dopo questi andranno poi fuori nel laghetto che sto allestendo in giardino e qua voglio metterci qualcosa di uno strano con un pesce gatto qualcosa vediamo sono bellissimi veramente belli sono contento la fiera non è stato un granché però almeno preso due pesci questo è stato solamente una parentesi anche perché di inverno andare a pesca devo prendere delle tempistiche comunque belli 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 mi piacciono mi piacciono i miei pesci ciao ragazzi alla prossima ciao Grazie.